Inizia una nuova puntata di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. In questa puntata andremo ad ascoltare i commenti su alcuni temi dibattuti in Consiglio, ma non solo perché a margine del Consiglio ci sono state delle attività e delle conferenze stampa che hanno evidenziato alcuni aspetti della Toscana di queste ultime settimane, tra cui per esempio anche l'attinenza fra la Regione e il Salone del Libro di Torino. Andremo a vedere perché, ma andremo anche per esempio all'Isola del Badunque. Andiamo a vedere subito i titoli che caratterizzano questa ennesima puntata di Cronache e Commenti. Presentata una mozione sulla vita indipendente per le persone con disabilità. Relazione dell'attività 2023 del Corecom approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Toscani al Salone del Libro grazie al treno che l'11 maggio partirà da Santa Maria Novella. Celebrato in regione il decennale della Fondazione Isola d'Elba. Presentata al Consiglio regionale una mozione sul progetto di vita indipendente per le persone con disabilità. Mozione che impegnava sulla volontà del Consiglio di avviare un percorso di stabilizzazione. Proposta bocciata dal Parlamento Toscano. Il voto contrario alla richiesta di cristallizzare in una legge il progetto di vita indipendente da parte della maggioranza ci ha lasciato sorpresi e amareggiati. Prima di tutto perché l'impegnativa era molto semplice e chiedeva di attivare questo percorso che significa dare il via a mantenere una promessa che è stata fatta ormai sette anni fa alle associazioni, ai comitati delle persone con disabilità che chiedono che l'articolo 9 della Convenzione internazionale per la difesa delle persone e la tutela delle persone con disabilità sia resa concreta e oggettiva, cioè dare fondi strutturali che non siano legati a progettualità annuali a quelle che sono le esigenze di assistenza di queste persone che devono avere il diritto di poter scegliere della propria vita e devono poter avere un supporto economico ma anche legislativo adeguato. Le scuse con cui è stata respinta dicendo che è necessario attivare un percorso e fare tutti dei procedimenti per i quali noi ci siamo dichiarati disponibili e neanche abbiamo disconosciuto il lavoro che pure ha fatto la Regione Toscana non sono accettabili non tanto da noi ma da quelle associazioni che non più tardi di un mese fa protestavano sotto questo palazzo perché era stata cambiata una dicitura che rendeva ancora più aleatori quella che è la progettualità e i contributi della Regione Toscana. Non ci si nasconda dietro a quelle che sono gli adempimenti a cui dovrebbe seguire il Parlamento anche economicamente. La Regione Toscana può e deve fare la sua parte cristallizzando in legge quelli che sono adesso solo i contributi annuali. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità la relazione sull'attività del Corecom nel 2023. Il Corecom si occupa di molte cose fra cui di vigilare sull'ampio settore delle comunicazioni in Toscana. Fra queste sono in calo per esempio le istanze di conciliazione presentate meno 11,9% rispetto al 2022. Nella risoluzione approvata è stata evidenziata anche la necessità di avviare una riflessione in merito all'attuale disciplina sulla parco indiceo elettorale alla luce di una comunicazione politica si legge profondamente mutata rispetto alla normativa attuale. È stata oggi approvata la risoluzione che accompagna l'approvazione del consuntivo delle attività del Corecom per il 2023. Si tratta di un'agenzia che è poco conosciuta e che invece riveste una funzione importantissima per i cittadini e le cittadine dal punto di vista del loro interesse a quanto si muove nell'ambiente dell'informazione e delle telecomunicazioni in generale ma anche per quanto riguarda le loro vertenze su queste materie. Il Corecom ha sia attività che gli sono delegate dal governo sia attività proprie e devo dire che la Commissione ha valutato positivamente tutte le attività del Corecom in questo settore e soprattutto anche la rispondenza delle richieste che la Commissione e il Consiglio avevano inoltrato in precedenza cioè quella di fare qualcosa per far conoscere meglio questo organismo ai cittadini e le cittadine che spesso non sanno che cos'è. Si è avviato un percorso che loro chiamano Corecom Tour cioè di giro per le province toscane per spiegare le funzioni del Corecom e consegnare questo strumento importante per frequentare i luoghi che oggi sono diventati preponderanti nelle nostre vite cioè i luoghi dello spazio digitale, dei social e dare più strumenti ai cittadini per stare appunto e ad operare questi strumenti in modo consapevoli. In più il Corecom continua a mantenere altra un'attenzione a cui noi siamo molto, a cui teniamo molto e che sorvegliamo molto che è l'attenzione per i cittadini più giovani. Con il patentino digitale, il progetto del patentino digitale e la sua diffusione, il lavoro per mettere in guardia i cittadini più giovani dai pericoli della rete, per consegnare a loro degli strumenti per usare consapevolmente i social, i siti web e senza rischiare di cadere appunto in trappole che a volte lì si incrociano, ci sembra un lavoro fondamentale. Il Corecom continua a farlo, il progetto del patentino digitale si espande e quindi la soddisfazione del Consiglio è stata piena e è stato approvato all'unanimità il consuntivo 2023 delle attività del Corecom. A margine del Consiglio regionale è stato presentato il treno dei lettori toscani che come ogni anno porta cittadini della regione al Salone del Libro di Torino. Sabato 11 maggio la partenza da Santa Maria Novella con l'arrivo alla stazione di Torino Lingotto. Il viaggio è finanziato dalla regione che avrà all'interno del Salone un proprio stand. Il biglietto si potrà prenotare fino all'8 maggio. 50 di questi ticket sono riservati agli under 30 che potranno prendere parte ad un tour dedicato all'interno del Salone. Il progetto del treno dei lettori è un progetto che avvicina la cultura toscana e la cultura del leggere in Toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Come Associazione Guimido, come Gabriele Metrano, presidente dell'associazione, faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno e una sorta di radio dei lettori toscani. Un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. Una programmazione che vedrà Anime Loci e la Toscana delle donne con i suoi protagonisti presenti nel treno e poi un racconto di tutte quelle che sono le iniziative toscane verso il Piemonte, in questo caso il Salone del Libro, ma tutte le iniziative toscane che riguardano la lettura che sono presenti in Toscana per informare e approfondire proprio i progetti che ci sono sul nostro territorio. Grazie. Sì, è dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della regione toscana che nel 2017 è stata anche regione ospite, quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità e prodotti librari, ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per i cinque giorni di salone animerà lo stand. Quanti titoli ci saranno in mostra nello stand toscana? Si può fare una previsione? Allora, ogni editore tra quelli che hanno partecipato al bando può mandare all'incirca 20 titoli e quelli del tavolo collettivo una decina, quindi insomma direi che l'offerta culturale della Toscana è ampiamente rappresentata. Allora, Unicop Firenze ha dato la propria adesione e speriamo anche un contributo a questa bellissima iniziativa della regione toscana. Per noi cultura significa accesso e socialità, quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino che è la versione bella del paese dei balocchi per gli amanti della lettura. Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo, volontariato dei libri all'interno dei punti vendita, le 40 Bibliocop che è un grande motore di partecipazione. In questo caso noi supportiamo la regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30. Quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione. Negli scorsi giorni si è celebrato il decennale della fondazione Isola d'Elba ETS. La fondazione conta 340 soci e si pone come obiettivo ormai da 10 anni quello di sviluppare l'isola nei settori della sanità, della cultura, dell'ambiente, dell'istruzione e dell'economia. Oggi si festeggia il decennale della fondazione e quale sede più prestigiosa per una fondazione come la nostra che è legata al territorio di essere nella sede della regione toscana. Quindi un bel accreditamento per tanto lavoro fatto in questi 10 anni. Diciamo che la fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola, delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti sociale, economico, produttivo, ambientale. Quindi i progetti sono molti, probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti. Sicuramente la cosa che è importante capire è come un'associazione come la nostra che è nata per pulo volontariato da parte di persone che amano questo territorio ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra, per la propria isola, che proprio perché isola ha delle particolarità che devono essere in qualche modo esplicitate per essere trasmesse nel giusto modo anche al di fuori, altrimenti è una realtà che rischia di non essere compresa, anche nelle sue grandissime potenzialità. Sono molto contenta di essere qua a Firenze in Consiglio regionale, ringrazio l'opportunità che abbiamo avuto, ringrazio il consigliere Marco Landi per questa presentazione che stringe ancora di più i legami fra l'isola e il continente, che è un po' il nostro obiettivo, quello di uscire dai confini dell'isola per portare sempre nuove opportunità anche nel settore del sociale, della cultura, quelli che sono i temi dell'ambiente, che sono i temi sui quali si sta muovendo la fondazione ormai da dieci anni. Quindi sono contenta di essere qua in Regione, ma sono anche molto contenta che sia il decennale di questa fondazione che è nata dieci anni fa e quindi noi onoreremo questo compleanno e anche queste attività che abbiamo svolto in questi dieci anni con delle iniziative che faremo a Portoferraio il 4 di maggio e oltre ovviamente a invitare i soci 340 della nostra fondazione, vogliamo anche invitare tutte le persone che vogliono avvicinarsi a noi, all'isola d'erba, alle nostre attività e quindi benvenuto a tutti. Diffonderemo con la stampa e con i media il programma delle iniziative che comunque comprendono un convegno al quale parteciperanno molte persone che si occupano di cultura sociale d'impresa e anche di volontariato e anche di cittadinanza attiva. Quindi organizzeremo questa tavola rotonda, poi ci sarà una scena e successivamente uno spettacolo, guarda caso, dedicato alla famiglia Olivetti e quindi a un imprenditore responsabile che teneva moltissimo al proprio territorio. Come facciamo noi della fondazione? Oggi presentiamo i dieci anni della fondazione Elba. Per me è un grande onore, oltre che un grande piacere, essendo io un elbano, poter dire che questa fondazione in questi dieci anni ha portato un contributo fondamentale al nostro territorio, una fondazione che ha delle finalità civiche, di solidarietà sociale, che in questi anni attraverso dei lavori nelle organizzazioni di tante commissioni che hanno trattato tantissimi temi a partire dall'ambiente, dalle infrastrutture, proprio dalle tematiche del sociale e tanto altro ha saputo coniugare un valore imprenditoriale, un valore anche di coloro che hanno voluto fortemente la nascita e la crescita di questa fondazione assieme a quelle che sono le problematiche di un territorio. Quindi oggi noi diciamo che sono passati dieci anni, ma auspichiamo che questa fondazione vada avanti per altri cento a dare il proprio contributo così importante, sempre nel modo giusto per dare anche uno spunto a quello che deve essere il lavoro delle amministrazioni locali e perché no anche di quella regionale. Cronaca e commenti torna come sempre la prossima settimana con nuovi temi che andremo a toccare dal Consiglio regionale toscano. Grazie a tutti.